bello a tutti ragazzi sono TheTipicalPlayer sono finalmente ritornato ho gli orali fra poco però ho deciso di tornare con un video a un video speciale cioè faremo un cazzottissimo opening track che adesso dimostrerò ho 250 cazzotti pescoin ce l'ho fatta in quanto sono riuscito a completare l'obiettivo che ho postato su facebook questa somma poi ho altri opening track da aprire tipo 1.6, 6.7 da 2 cioè quindi abbiamo probabilità di beccare 6 o 7 sterile due volte quindi è buonissimo il resto lo apriremo da 30, volevo fare uno da 10 ma da 10 alla fine non c'è altri 50 pescoin mi metterai un bel po' a farli perchè al giorno mi regalano 1 o 2 casomai pescoin diamo il via alle danze stiamo subito aprendo 3 campagna talenti per 1 perchè veramente merita intanto cosa vi posso dire non sono andati bene, non schifo vaffanculo l'Italia ero a fare la terza prova quindi non sono riuscito a guardarla bravi l'ho visto di nuovo la partita e mi è piaciuto veramente tanto aperto ben anche lo teniamo buono 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 dicevo che l'Italia è veramente meritato bravissima l'Islanda credo che smerdi la Francia e viva la Volonia questa sera sono custionato sono una ragosta dietro ok vai vai parte la perfetta mamma mia se è tamarro questo ma quanto è tamarro bra bello di pitone primo chi sarà il primo vediamo chi è il primo VUS VUDES VARDI abbiamo preso VARDI 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 AYUKKO ma se sei incazzato sudano EVRA VARDI 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 oh mio dio sette stelle sette stelle e per ultimo chi troviamo silva doveva rovinarci questo vando però abbiamo evra ragazzi regali così basta oh un altro bene cos'è 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 questi regali? basta facciamo un talento da 30 un talento un talento vedi non è tamarro però mi da fastidio moreno va a cantare moreno va a cagare moreno e si va si va a comandare con le ciabatte in tangenziale song mi gasa mi gasa però ma chi cazzo sei? ma chi cazzo sei? ma vai a casa va a fare Fernandinho centrocampista centrale che a noi non ci fa schifo e ora apriamo i nostri sei e sette ragazzi questo è interessante apriamo sto talento gold tamarrissimo che io ho paura ho paura ma ci credo penso tipo manzukic perchè uno come lui ne avevamo bisogno non è vero per niente non avevamo bisogno di te Filippo ecco teniamo mi sa probabilmente evra party on fire non lo teniamo ben nato non lo teniamo ragazzi qua diventiamo ricchi perchè c'è niente fammi diventare un attimo ricco si vuoi davvero vendere questi giocatori? si si ok dai 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 non perdere tempo dai 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 lento? basta si dai dai veloce gli fai mandino a Filippo Melo lo mandiamo subito a cagare e manzucicerebra gli facciamo un bel contrattone per almeno cinque anni e si per cinque anni non ho voglia di fare di perdere tempo facendo dai basta se utilizzarli però che cazzo volevo fare? te mi si sta raffreddando guarda troia quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che questo mega open impact penso sia stato da dieci aspettate tre due uno due cinque sette 8 9 10 over 10 basta spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like un commento ho i capelli di merda spumosi quindi niente lasciate un like commentate iscrivetevi al mio canale andate su facebook dove vi aggiorno possiamo dire su quello che faccio e grazie per la visione ciao a tutti